Attenzione, 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 il nostro caro Picchio si esibirà in un suo numero. Ecco, un bello applauso Picchio, bravo Picchio, bravo. Eseglierò alcune imitazioni mimiche. Due tipi al biliardo, lo sprovveduto. Un bello applauso Picchio, bravo. Secondo personaggio al biliardo, un tipo un po'... Così? ... 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